Siamo al Parlamento europeo, siamo venuti a incontrare la delegazione di Regione Lombardia presso il Parlamento europeo e i nostri europarlamentari lombardi per valutare la possibilità dell'utilizzo dei fondi sociali europei per il supporto al reddito di cittadinanza a Lombardo. Per noi è una cosa molto importante, si è detto tanto e troppo senza approfondire, siamo venuti qua e abbiamo visto che la possibilità c'è, quindi bisogna mettersi al lavoro seriamente, noi siamo pronti e da quando torneremo in Italia, torneremo a Milano, saremo pronti a mettere in atto il reddito di cittadinanza per i cittadini lombardi.